Ma perché cavolo fai lo stronzo così? Guarda che stai senza acqua, sfigato. Vedi che salta, vedi? Ma vedi come salta? Vedi che salta? C'è una pecora che salta a due metri. Non so come fare! Sono qua a Labrina, ho appena preso le uova, sono successe cose con le pecore. Ma è tutto bello, eh? A Boris le cose muove non piacciono. Quando è in calore gli sta sulle balle che mi avvicino, guarda. Confronto generazionale, madre contro figlia. Femmina, femmina, guarda, arriva poi l'altra. A dire, oh! Il problema che sto avendo è che questa qua è parecchio con tette di vita. Praticamente mi fa i salti. Probabilmente mi ha abbinato un po' troppo al cibo. Vabbè, qua sono tutti un po' strani, un po' schizzati. Vero Boris? Perché qualcuno mi ha detto, ma perché è ferito sulla testa? Guarda che è un cretino! Vedi che salta, vedi? Ma vedi come salta? Vero, vero, tac! È contenta di esistere. Cavolo! Niente, sì, vedi? Quando sento la mia voce parte.